Io sono Chase Witte, è una vecchia scuola bus sgancherata come me che fa gare al limite del legale, molto inzaccherata, molto piena di fango e molto competitiva, mi piace da farsi. Come ti sei trovata nel ruolo che l'hai fatta adoppiatrice ma questa volta che significa per te? Per me è significato di realizzare un sogno, ho sempre sognato di fare una doppia telecoce e spero che questo sia solo l'inizio di una lunga carriera, mi piacerebbe doppiare bestie, mostri, cose tutte storte, insomma le cose più strane che ci sono, mi piacerebbe anche di dare questa voce a spingere un video. La radio, tu sei molto rock, è rock questo film. Questo film è carinissimo e ha un messaggio molto importante, anche le bambine possono andare a realizzare finalmente per davvero e partire dalla stessa linea di partenza, non si sta dietro come sempre, in prima linea gli facciamo un po' di segno. Vai, grazie per te. Sei rock ma i cartoni animati li segui, ti piacciono, li guardi? Insomma io sono crescita con i cartoni, ho bambi sulla mano, è una collana bellissima, mi sento preparata. La gente si trova bene, grazie. Grazie.